Quest'oggi si gioca a nascondino su Fortnite, siamo in compagnia di Massi e di Gonx E niente, la mappa dovrebbe essere super mega fantastica Ma non abbiamo niente deciso chi si nasconde e chi cerca Che figo sto posto Però aspettate, aspettate Wow, wow, sembra bellissimo E qui c'è una cesta per chi cerca Eh, sì, lo so, e chi cerca? Eh, non lo so Vai, numeri, pronti? Chi è il primo? Ecco io Si cerca due o uno Ah, cerca Gonx? Cerca Gonx, cerca Gonx Oddio, aspettiamo Andiamo Via, 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 via Ok, direi che puoi partire A 3.05 è tondo Quindi abbiamo 40 secondi Ma come 40 secondi, Stef? Non arriviamo neanche in città Che figo! Ma è una park gigante Tu sei pazza No, raga, ma io voglio esplorare la mappa Ho preso una balestra Eh, è quello che vi dicevo, Genon La balestra? Sì, perché c'è una cosa di tipo tiri di precisione Che figata Spero di non essere io il bersaglio a sto punto No, 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 era proprio un minigioco Allora Ok Raga, 15 secondi Spero che vi siete nascosti No Per niente Assolutamente no Cioè io sto cironzolando, raga Secondo me Cercare da solo è quasi impossibile Anche secondo me 5 Vero? 4 Il secondo round lo facciamo che cercano due Volete una cosa divertente anche da sapere? Mh Non posso mirare Bene Giusto per avere una roba in più Ah, il famoso bug Ok, ok Ok, io ho fatto Decido io di cercare Dai, ma perché? Vabbè, tanto se ci trovi Ci hai trovato Su Fregatene Va bene, va bene Quindi ci hai visto Tanto non scappiamo Stiamo fermi E amen Così riesci a sparare anche senza mirare No, vabbè, però almeno ti deve raggiungere Poi se non ti sta sparando Va bene Eh, però infatti se ti trova Tipo apre una porta e ci sei tu Eh, ti ha trovato Io e Massimo sa che stiamo nello stesso posto Io che mi hai sparato con la balestra Steph aveva una balestra Ma cosa avevo letto ogni volta da me? Tu hai detto di avere la balestra Che vuoi? No, io ho detto che c'era la balestra E che quindi l'hai presa ovviamente E perché avrei dovuto prendere la balestra? Perché vuoi ucciderla di nascosto Ma quanto tempo ha gongs in effetti? Perché è già passato un minuto Tanto, secondo me Facciamo quattro minuti? Eh, un bel po' Cioè, poi il prossimo round lo facciamo in due Perché è davvero enorme questo posto Sì, assolutamente, è impossibile Io poi ho un nascondiglio che è bellissimo Non so voi Ma il mio è fantastico Voi che voto date al vostro? Eh, non è male Sei e mezzo Sei e mezzo Io forse un sette Perché siamo nello stesso Penso di essere nello stesso posto di Massi Perché ci siamo in punti speciali Nella stessa location ma in punti diversi? Eh sì Però il fatto è che io ho trovato un posticino All'interno di questa location Che sembra comunque abbastanza interessante Quindi Ok, io ho notato che Mi preoccupa Perché? Perché io sono andato nel punto dove ci sono le balestre Ok? Da dove ho sentito arrivare lo sparo Ok E vedevo delle cose muoversi Quegli alieni lì E i bersagli Pensavo che tu fossi uno di quelli Invece non c'era nessuno Quindi da dove hai sparato? Da casa mia Si era spostato E' un maledetto Lo sai che tanto non rimane fermo nello stesso posto Donk sei zittissimo Mi sape di averlo trovato invece No Scusa ma non ti devi troppo concentrare su Steph È guarda che ti fa perdere un sacco di tempo Ah no, infatti sto cambiando il posto Vuoi vedere dove è Steph? Non capisco Anche vedendo non capisco No, non capisco Non conosco tutta la mappa Quindi vedendo ovviamente che non si vede nulla Perché è nascosto Sto finendo anche il rampino Ah non è infinito? No Cavolo Wow Ho sentito passi a fianco a me Ho sentito Non trovo più nessuno Si sta sognando i passi Ma allora è Steph? Se tutto il tempo io sono Fere sarete voi No Non ci sono passi vicino a noi Cosa vuol dire? Non ci sono passi Ma si tu hai sentito passi? No Facciamo una cosa più hardcore Dall'alto Vediamo se trovo qualcosa Vabbè questo Cavolo il drift Che cattiveria Allora ci sta Ma chi è che si nasconde All'aria aperta All'aria aperta Cioè è pieno di posti Non lo so Però in un posto così gigante Ci sta stare anche all'aria aperta Tipo in un punto alto Non lo so Ma ti ripeto È talmente pieno di posti Dove nasconderti Che non so se ti venga Da stare all'aria aperta 3 minuti e 40 E mancano 40 secondi Allora Ormai posso dirlo Dato che da me Non arriverebbe in tempo Eri vicino a me Non so per quanto tempo Il che dimostra Che il mio nascondiglio Era veramente ottimo Era alle montagne russe io Eh ci ho pensato Ma non sono andato oltre Ho preso il Beh però Allora sia dal drift to go Quando in alto non mi hai visto Sia a un certo punto Eri proprio lì che camminavi E intorno ai binari E io ero dentro uno di quei binari Dentro i binari? Sì sì Perché ce ne sono alcuni Che sono un po' scavati E quindi se ti accovacci Diventavi bassissimo Ah ok Top nascondiglio ever Vediamo se trovi gli altri due Ma che la vista di specchi È molto difficile A trovare Eh no Ormai Ma quanto manca? È finito il tempo adesso Ok appunto In questo stato istante Ce l'ho fatto ho vinto Dove sei? Dove sei Gon? Sotto al piano di sotto Anche noi eravamo al piano di sotto Ma dove è la vista di specchi scusate? Ma è enorme Era che non avevo vissuto Alla parte di sopra Ma dov'è? Io non so neanche dov'è Eh sta fine È questo con i cuori? No È un altro ingresso No Quello? No 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 Forse sì Quello 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 Ok Quello A fianco al punto di domanda Ok l'ho trovata Ma dove è Gonx? Perché non c'è? Non lo so Credo che sia talmente grande il posto Eh io ero proprio su 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 Nascosto in un buchino Io ero qui Qui sotto Eccolo Perché se entri qua Guarda Massi E non guardi bene Qui dentro c'è un altro posto Dove infilarti Vedi? Vi prego Sono incastrati Ma ero qui No raga ma è bellissimo E' una figata Questo è introvabile Ma che mappa è? Che meraviglia No vabbè ragazzi Fere era in un posto Completamente introvabile Cioè era impossibile E voglio vederlo Cavolo E adesso? E tu dove sei? Guarda dove era Fere Cioè era introvabile Ok No aspetta Io ci sono passato qua davanti Sì Questo è introvabile Perché poi entri qua Guarda E quindi tu se lo vedi da fuori E quindi tu se lo vedi da fuori Ragazzi c'è Quello è introvabile Ovviamente vedi che se tu guardi così al volo Tipo guardi al volo Non è che lo noti Sì era vero Perché è stupendo Era veramente ottimo Allora dovete Gonx ammazza tutti Perché dobbiamo riniziare Mi ha ammissato E chi cerca adesso? Cerchiamo in due? Cerchiamo in due Cerchiamo in due Allora Gonx non deve cercare Quindi Gonx si nasconde Insieme a Fere Vai cerco con Massi Ok va bene va bene Ci sta Massi come ci rivediamo il loot? Beh uno di movimento entrambi Esatto Tu prendi la pistola Io posso andare col piccone Dai Ok Ti vi regalo questo allora Sono gentile Ah ma solo sete colpi comunque Sì Ok Allora come siete messi? Malissimo E facciamo che avete questi altri 35 secondi E quindi in totale avrete avuto più tempo Di quanto ne abbiamo avuto prima noi Però siamo in due Quindi ci sta Allora Massi partiamo con il rift Secondo te? Dici cose cattivi? No forse non ha senso No forse sì Non lo so Non lo so 15 secondi Sì perché così li facciamo Ma A me sembri sentire i passi No forse Vedi allora Non sono io Si sentono passi di fantasia Ero io quando sentivi i passi prima Solo che non potevo dirtelo ovviamente Ma ero io No ma era lontano Ci siamo? Possiamo partire? No io non sono nascosta Io non sono nascosta Fere ma sono i passati però eh Eh lo so Eh Fere? Non conosco il posto Steph Non posso andare nel labirinto degli specchi Ho capito Fere però È l'unica cosa che conosco Vabbè adesso cerco un posto dove infilarmi Vabbè vai vai andata Andata No no perché dobbiamo partire con Rift to Go Se sei in giro sei già morta No vai non sono in giro vai 10 secondi Partiamo ai 30 Sto cercando una scondiglia all'interno di un posto 5 4 3 2 1 Oddio come ci dividiamo? Non lo so Allora io vado dentro le location e tu guardi gli esterni Ti piace? Ok Ma sono tante le location da fare? Lo so Infatti sono un po' preoccupato Io non so dove mi sono infilata raga È un posto infinito Secondo me Gon's è qua Io vado al clown Ok no vai tu No vai 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 Secondo me è lì Anche se potrebbe non esserlo Però magari prima l'ha esplorato Ho capito? No ma Ma si è un labirinto Sì clown è un labirinto Eh lo conosci bene vero? Che cosa? Non conoscire perché sono entrato una volta e non riuscivo ad uscirne Sì 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 What? No vabbè Ho trovato tipo la zona degli innamorati È gigante No vabbè ragazzi Cioè questa roba è incredibile No questa roba è bellissima È enorme Non so Cavolo qualcuno dietro la scascata Pensavo ci fosse Allora Stef? Diciamo che Cosa sta succedendo? Ho qualcuno vicino Contando che quella imbecille sta ridendo Dire di sapere chi è Ok Però Non mi avrai mai È una sorta di labirinto con cosa deve saltare Quindi sta qua Sta saltando in giro Come una pazza Ed è introvabile ve lo giuro Bene Sì 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 io ma sì ci rimarrò qua quattro minuti solo per fare No è impossibile questo posto eh È un labirinto di salti di speed Ma questa porta è glitchata? Ok Ma come faccio? Non vale è impossibile Guarda Non so dove stai finendo Stef Prima che ti trovo maledetta Raga io sento qualcuno Come senti qualcuno? Sì Ho i passi glitchati un'altra volta Non mi avrai mai Yes Massi ne abbiamo una in meno Ok Allora Devo tornare dietro Ma non trovavo posti dove nascondermi Adesso che ti vedo Vediamo cosa tutto c'è in sto posto È infinito Allora Massimilico ti ho scolarato Non passano 30 secondi Io sono adesso alla casa degli specchi Ok Eh ma lo sto facendo molto velocemente Perché è troppo grande Eh quella è infinita E hai fatto il posto degli innamorati L'hai già fatto? Sì 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 Dovrebbe essere libero Ti senti tranquillo? Sì Credo di sì Sono andato anche dietro i punti Se non è che ho messo qualcosa Ok Mi sta iniziando a venire l'ansia Sì anche a me Quanto tempo avete? Eh un minuto e trenta Eh set Ah ah Sono entrato in un posto dove non posso uscire Ok Eh che vuol dire? Sono molto contento Eh c'era un nascondiglio Molto nascosto Ed ero proprio vero Sono entrato dentro E non ci si può più uscire da qua Guarda qui in acqua Quindi adesso siamo uno o uno? Ah no aspetta Fiorampino Ok Ok meno male Quello era un buon posto Vero? Sì Anche io l'avevo pensato Era tipo un cassonetto Che sembrava pieno di roba Invece qui c'era un buchino Dove ti buttavi dentro Ah ok sì E Gonx sa tutto È che È che Vabbè che ha cercato C'erano secondi e ha girato tutto il palco No è perché ha cercato quattro minuti Quindi in effetti ha visto un sacco di roba lui Ah vabbè sì Guarda secondo me questo è il posto dato a Gonx L'hai capita Fere? Sì Era un po' brutta No non faceva ridere Però era un po' brutta Io controllo davvero E come fai? Poi come ne esci? Bellissimo No vabbè ma Cioè il tipo è un genio Il tipo è un genio Ci sono i nascondigli dentro i water Per quello dicevo che era Non sono water Stef E cosa? Stef Sono quelle piscine dove c'è uno sopra E tu devi colpire il bersaglio per farlo cascare Ma che water? È ovvio Se in un luna park secondo te ci sono dei water giganti Sì 20 secondi volete un indizio? Sì Beh beh Ormai Ero il clown io ancora Ok eccomi Arrivo Cioè Eccomi Eri dove era anche Fere? Sì è entrata dopo di me E io ho pensato solo a Fere Oh mio Dio Forse non lo sapeva nemmeno lei No non lo sapevo Vai Massi Andiamo a cercarlo Turgong si rimane fermo Io non l'ho visto dove si è nascosto No 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 Lo bastoniamo Cioè ci vogliamo tipo 40 minuti a trovarlo Allora Sento già Massi in giro Deve essere Di Massi vicino Di qui Di qui Ok Prendiamo questa strada che non ho mai preso Perfetto Perfetto Ma dai Ma sei ritornato giù Sì Alcuno è molto vicino È Massi È palesemente Massi Ma dov'è? Però io l'ho esplorato parecchio Perché comunque cercavo Fere Sì tu hai girato molto Questa strada non l'ho mai preso ad esempio E infatti E ritorni giù Ma spacco qualcosa Dov'è Gongs? Ma come c'è arrivato? Eccolo 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 No 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 L'hai trovato? Sì Sento rumori ma dove? Sì sì È qua Era qua vieni Era un bel nascondiglio comunque Non riesce a salire Non riesce Ok Eh sì Qua esattamente qua così C'è rimasto male Stef Ci stava Sì è un po' triste È colpa di Fere che è una scarsona Io non lo sapevo Mica l'ho visto dove è andato Gongs Ci siamo separati Ma ti faccivi le passeggiate tu qui dentro Invece che sta ferma Ma non rovere scusate Non hai sentito altri rumori Che vuoi? Sento i rumori Mi distrago Dovevi controllarlo bene Come tu la stavi sparando Io ero sopra che faccio il balletto del coniglio E non l'avete sentito Cioè neanche il balletto abbiamo sentito No io non ho sentito nulla Quindi diceva che qualcuno era vicino a lui ed era vero Sì E io pensavo di essere io L'ho detto nel momento preciso Perché ormai era sicuro il fatto che Stef stesse cercando Fere Ok Sto a dire l'attenzione dal me dentro il clown Ok non ci avevo proprio pensato Comunque ci fermiamo così La mappa è davvero davvero fantastica Forse della scondina la mappa più bella che abbiamo mai fatto Sì perché è fatta apposta Quindi è piena di nascondini Veramente veramente bellissima Speriamo che la mappa vi sia piaciuta Qua sotto questo è per compagliare altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao